Scalpa rotta? Ecco siamo a Ceretto ferata Camerlander nuova adesso qui lasciamo la macchina e saliamo un po da su eh? si veramente tirano già bene eh? non c'è la musica che devi mettere no metto musica bisogna sentire che soffriamo come va? qua insomma c'ho l'imbrago che tira no? se fosse più piccolo niente eh con questo eh no bello si si mi sa che la parte dopo è un po' più al sole no no qua ci sta bene adesso abbiamo questo bel diedero qua un po' impegnativa eh? si 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 no 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 E' qua la scarpa ragazzi Speriamo che non sia lunga ancora Fai vedere la scarpa Ai 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 La scarpa ragazzi Trabalano poi? No Vene ne? Sempre muscoli Ancora con il pezzo lì Ecco l'ultimo passeggetto Prima del ponte qua sopra Ecco il ponte qua Facciamo questo Su di là ancora E dopo dovrebbe essere finita Perché ormai Va bene vero? Sì sì E' bello quel ponticiatolo eh? Sì Particolare E' da stare in equilibrio eh? Sì 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 Allora ci abbiamo messo Tre ore Tre ore Tre ore Tre ore Sì Buono buono Ecco siamo qui Ecco siamo qui alle panchine Io ci hai detto Sì La ferata l'abbiamo finita E Fulvio mangia il culatello lì cos'è che Ecco si nutre di nuovo perché ha bisogno di vitamina Alla prossima Alla prossima Ecco proprio lì la ferata No no sto dicendo che è proprio lì giusto